Nannini Gian, vorresti fare la cantautrice? Eh sì, certo. E che cos'è per te la felicità? Una stanza da qualche parte con un pianoforte. E cos'è che ti fa paura? La pazzia. Ho fatto il giro dei negozi dischi tutta Milano. Non ci sono. Se il tuo nome è sulla schifezza igiene, te non ce lo metti, chiaro? Se tutto quello che senti non sai metterlo dentro la musica, non so cosa stiamo facendo qua. E se riesco più a cantare. Se la musica è la tua arma, allora combatti con quello. Perché rinascere è più bello che nasce. Io faccio il che mi pare. A presto. A presto.